Questa sera siamo invitati ad accogliere questi due segni, segni voluti da Giovanni Paolo II prima di tutto perché è stato il pontefice che ha ideato, che ha avuto questa grande bellissima intuizione delle giornate mondiali dei giovani e segni che poi anche i pontefici a venire, successivi, hanno accolto ben volentieri e hanno lasciato che fossero i simboli, i segni principali proprio delle giornate mondiali dei giovani e non potevano non essere che la croce, segno dell'amore di Dio, il luogo in cui Dio Padre ha donato realmente con il sacrificio del figlio, ecco la vita del figlio all'umanità, è una madre e sappiamo bene come ai piedi della croce quando tutto è avvenuto, quando quel momento strategico in cui è cambiata la nostra vita, la vita di ciascuno di noi, i credenti proprio oggi ecco negli atti degli apostoli si fa proprio cenno che ad Antiochia per la prima volta coloro che credevano in Cristo venivano chiamati cristiani, ecco la nostra storia è cambiata da quel momento in poi. Pensavo così, un piccolo pensiero, un collegamento che potesse mettere insieme il segno della croce con un'icona, un'immagine. Guardando alla teologia delle icone, la teologia orientale, noi sappiamo bene che per il pensiero orientale l'icona è quasi sacramento, anzi forse è sacramento, cioè realizza la presenza. Nell'icona noi vediamo principalmente le immagini, le immagini a volte non sono proprio belle, bellissime, definite, però quello che galvanizza proprio il nostro sguardo è lo sguardo stesso dell'icona. I nostri occhi si soffermano non sulla bellezza dei tratti ma su due occhi grandi spalancati che ci guardano, nei quali sembra che quasi ci possiamo tuffare. E allora ecco il segno, il ponte nel quale io vedo che si collegano davvero il segno della croce è l'immagine di Maria. Gli occhi di Maria sono gli occhi attraverso i quali noi possiamo veramente comprendere il mistero di Cristo, la croce. La croce che è un segno, alla croce non vediamo appeso l'immagine del Cristo ma è una croce nuda, sono due pezzi di legno incrociati messi, ecco posti uno incollato all'altro e rappresentano davvero potremmo dire la sofferenza di tutto il mondo. E' così un po' con un'immagine anche poetica come a volte mi piace parlare, mi piace immaginare, abbiamo visto proprio in questo video realizzato da Francesco Bosco, come la croce che Giovanni Paolo II ha consegnato in quel lontano 1984 abbia veramente fatto il giro del mondo e mi piace immaginare la croce allora come un pennello. Noi sappiamo che le icone sono fatte con le terre, le terre mischiate all'uovo, ad alcune misture, oli profumati, ma è la terra. Ecco la croce di Cristo mi piace immaginare come un pennello che Dio stesso ha usato e che con il quale Dio ha voluto dipingere un'umanità nuova di cui Maria, noi la sappiamo bene, ne è l'anticipazione. Allora noi guardando Maria, tutti i giovani del mondo guardando questa icona, tuffandosi in quegli occhi profondi, possono attraversare la realtà nuova, la realtà bella, la realtà delle nuove creature in Cristo, coloro che si lasciano davvero fare da Cristo. Allora noi siamo davvero quella terra, le nostre sofferenze, le sofferenze di tutti i giovani del mondo che quella croce ha raccolto idealmente passando attraverso le mani, le case, le chiese, le comunità, le storie dei nostri giovani. Ecco quelle storie non sono potremmo dire qualcosa di passeggero, di volatile che si è consumato lì, che è sparito ma è stato raccolto e ogni volta che quella croce passa per il mondo quella storia, quelle storie si fermano in quella icona. Sapete Don Tonino Bello nell'ultimo tratto proprio della sua vita volle a causa della sua sofferenza perché nelle posizioni che assumeva a causa della malattia non poteva girarsi comodamente nel letto ha voluto, dovunque il suo sguardo potesse posarsi a seconda della posizione che assumeva in quel letto di sofferenza ha voluto un'immagine della Madonna. Quasi a dire, quasi a comunicarci che anche noi non potremmo mai capire, non potremmo mai leggere quella sofferenza, quell'amore che ha portato il padre a donare il suo figlio sulla croce se non lo leggiamo attraverso gli occhi di Maria. Allora Maria davvero diventa un ponte nel quale possiamo leggere le nostre storie, la nostra storia di sofferenza ma anche noi possiamo tuffarci in quegli occhi e comprendere anche la storia di Dio, le motivazioni che hanno spinto il padre a donare il suo figlio sulla croce, ad arrivare a realizzare pienamente ecco questo disegno di amore, questo disegno di salvezza. E allora è questo anche il senso della preghiera del rosario, ripercorrere i misteri del rosario significa leggere la storia di Cristo con gli occhi di Maria, proprio a partire dalla croce dove Gesù ce la consegnò attraverso l'evangelista e discepolo Giovanni dicendo a lui figlio ecco la tua madre, donna ecco tuo figlio. Ancora una volta abbracciamo, tuffiamoci attraverso gli occhi della Vergine delle Grazie e potremo comprendere il mistero di Cristo. È una preghiera speciale anche per i giovani perché negli occhi di Maria possano davvero scoprire anche il senso della loro vocazione, il senso della storia che Dio ha disegnato per ciascuno di loro. Grazie.